Tra poco ci sarà la fiera di Travagliato, ovviamente l'associazione parteciperà. Ci vuoi spiegare Marco il programma? Sì, la terza tappa di campionato italiano in una fiera molto importante, Travagliato Cavalli, che ci ospita sempre con gioia, dove ci hanno dedicato la scuderizzazione di tutti i cavalli spagnoli, dove ci lasciano organizzare le nostre gare e questo è proprio anche di un lavoro importante con Maria Valeri e Riccardo Di Giovanni, ormai da qualche anno collaboriamo a stretto contatto proprio per organizzare al meglio e Travagliato Cavalli per noi, per la Italia è una tappa molto molto importante. Ci saranno le gare, gli spettacoli, la gara dei domati, la gara degli iniziati, insomma in tutti i giorni della manifestazione. Esatto, ci saranno gare dall'equitazione classica alla arte eleganza, ci sarà uno show iberico di urno per tutti, chi volesse partecipare, ci sarà la gara degli iniziati, intermedia e la super gara dei domati. Pensiamo di raggiungere un numero di cavalli importante, l'anno scorso già eravamo sui 70 cavalli con tutte le nostre discipline e quest'anno pensiamo di essere molto di più. Vi aspettiamo a Travagliato. Travagliato Cavalli.